Beh, sicuramente tanta emozione e tanta voglia di iniziare questo percorso. Beh, ancora non lo so perché non l'ho ancora indossati, però come ho detto prima, tanta emozione e sicuramente sarà un qualcosa che non ho mai vissuto ad oggi nella mia carriera. Ma un girone sicuramente difficile perché la Serie C, soprattutto il girone C, è abbastanza complicato, non ci sono partite scontate, non ci sono squadre meno forti rispetto alle altre, però penso che con unità di intenti e con grande voglia il Catanzaro possa dire la sua in questo genere di ritorno. Sicuramente mi farebbe piacere e sono sicuro di vederli allo stadio. Forza Catanzaro!